C'era una volta il paese dei lavori impossibili. Lo conoscete? A volte c'è ancora. È un mondo di mezzo in cui progetti, piccoli o grandi che siano, diventano lavori infiniti. Sono Maura, ho due figli, 45 anni e ho lavorato come project manager, comunicazione e marketing, in particolare per progetti multimediali. Ogni cliente un nuovo progetto e un nuovo mondo da esplorare. Con la grafica editoriale avevo coniugato la passione per i libri con la necessità di concretezza e quando, inseguendo la mia curiosità, sono caduta nel selvaggio mondo del web, non avevo libretto di istruzioni né paracadute. Ho imparato un linguaggio fatto di nuovi vocaboli, Gantt, Pert, Budget e ancora strumenti e procedure. Per non perdere la testa ho dovuto mettermi in gioco, fare leva sulle mie capacità organizzative, utilizzare appieno le abilità che ho affinato da ragazza, con i viaggi e l'attività di volontariato. Le stesse capacità che ho messo in campo con la nascita dei miei figli, nella partecipazione alla scuola pubblica o nel rinnovato impegno nello studio universitario. E il paese delle meraviglie? Forse lo sapete già, ancora non esiste.